Bene, il tema di oggi tratta della santità, la santità di Dio e la santità alla quale l'uomo è chiamato. Ora, il fatto straordinario di questo libro che noi conosciamo bene è proprio questo. A differenza di tutti gli altri libri scritti dagli uomini, questo libro parla proprio come tema centrale della santità. Allora, possiamo commettere questo errore di non capire il nocciolo del discorso. Qui l'uomo c'è, è presente, ma l'uomo qui non viene divinizzato. Può essere anche un uomo di grandi talenti musicali, talenti anche di eroismo, pensiamo a Davide, eccetera, ma non viene nella Bibbia divinizzato Davide. I grandi personaggi della Bibbia vengono presentati con i loro pregi e difetti, così come sono. Ma alla fine non verranno mai trattati come degli dèi e neanche verranno ricordati come dei santi ai quali rivolgersi per fare delle preghiere e per chiedere a questi santi di venirci in soccorso mentre sono morti e sono defunti. Neanche questo succede con i grandi eroi della Bibbia, eroi dal punto di vista spirituale. Quindi per questo è un libro proprio del tutto diverso dagli altri, del tutto straordinario. E questo si può capire anche a livello umano. A livello spirituale poi si capisce ancora di più, si capisce il messaggio profondo della Bibbia e si capisce proprio come arrivare alla salvezza tramite questa santità di Dio e il piano che Dio ha fatto per l'uomo per salvarlo che è un piano che mette in primo piano, al primo punto, la santità. L'uomo una volta che ha capito i suoi limiti che sono proprio quelli di non essere santo, questi sono i limiti dell'uomo. Non è santo, non è santo vuol dire che ha tutti i difetti di carattere possibili e immaginabili. E la imperfezione di carattere dell'uomo è la causa di tutti i mali sia quelli individuali, sia quelli della società, sia quelli anche fuori della società. Tutto questo di male che c'è nel mondo animale è una conseguenza del peccato umano e anche tutte le catastrofi fisiche sono conseguenze del peccato umano. Quindi l'assenza di santità è la causa di ogni male. Ecco che Dio ci vuole richiamare alla santità perché con questo ci richiama al bene originario. Leggiamo in Romani 5,19 Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. La legge poi è intervenuta a moltiplicare la trasgressione ma dove il peccato è abbondato la grazia è sovrabbondata. Quindi è abbondato il peccato ma c'è la grazia, c'è la santità di Dio che sovrabbonda. E ancora, affinché come il peccato regnò mediante la morte che è quello che regna ora ancora Così pure la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Quindi un messaggio chiarissimo il nostro problema è la sofferenza e la morte la morte regna nella società senza la grazia senza l'intervento di Dio senza la santità ma il messaggio, l'Evangelo di Dio è che questa grazia questa grazia vince questa grazia si manifesta. Allora, noi siamo come persone senza conoscenza in questa situazione. Ora, guardate questa immagine io ve l'ho già proiettata Ora, la rivediamo nel nuovo contesto di cui stiamo parlando. Noi siamo in una confusione totale non conosciamo la verità non sappiamo che cosa sta succedendo se voi guardate questa immagine qui vedete qui un caos di pillole mezze mozzicate spezzate una confusione diciamo il caos il caos però se approfondiamo veramente la conoscenza con l'aiuto dello Spirito di Dio dietro questo apparente caos andiamo a scoprire il volto di Cristo il volto sofferente di Cristo prima ma poi scopriamo il volto radioso della vittoria di Cristo e il caos viene vinto da Cristo dal sacrificio di Cristo questo è il messaggio il sacrificio di Cristo vince questa situazione di caos e sofferenza che noi abbiamo causato e grazie all'intervento di Dio questo viene abbattuto in prima corinzi 6.11 eravate tali eravate alcuni di voi ma siete stati lavati siete stati santificati siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio ancora secondo a corinzi 3.18 e noi tutti a viso scoperto contemplando come in uno specchio di gloria la gloria del Signore siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria secondo l'azione del Signore che è lo Spirito nella storia della santificazione dei convertiti nella Bibbia vi sono questi episodi propri di santificazione se noi andiamo a leggere la Bibbia che cosa andiamo a leggere andiamo a leggere che Dio è santo beh ma non leggiamo solo questo leggiamo anche la storia di santificazione degli uomini che si sono convertiti che sono usciti fuori dal peccato e quali sono questi uomini menzionati nella Bibbia si parte da Adamo ed Eva Adamo ed Eva in un primo momento in seguito al peccato al fatto che hanno disubbidito a Dio hanno mentito si sono inorgogliti si sono voluti appropriare della vita indebitamente con la bugia con l'inganno in un primo momento Adamo ed Eva si sono nascosti cioè hanno cercato una salvezza propria con le proprie mani una salvezza per opere però poi hanno accettato l'opera di Dio in loro favore Dio gli aveva detto che il giorno in cui avrebbero peccato sarebbero morti Dio presenta il piano della salvezza gli dà questo abito fatto di pelle del sacrificio dell'animale che rappresentava Cristo e quindi qui vediamo che Adamo ed Eva accettano questo abito non abbiamo molti particolari sulla vita però questo è un particolare importante Adamo ed Eva hanno accettato il sacrificio di Cristo hanno accettato il perdone di Cristo poi ci sono tanti altri personaggi vediamo subito la storia di Caino di Abele Abele un vero adoratore e Caino un falso adoratore poi vediamo ancora altri personaggi nella Bibbia Noè Noè è stato anche lui una persona che ha fatto questo processo di santificazione Noè ha predicato 120 anni proprio ha dimostrato la sua fede nell'invisibile non aveva mai piovuto non c'era mai stato un diluvio e predicava questa condanna che Dio aveva stabilito del diluvio universale quindi anche Davide è stato un uomo di fede fino alla fine e grazie alla sua predicazione si è salvato lui e la sua famiglia e quindi la storia ha potuto continuare se non ci fosse stata questa conversione di Noè la storia sarebbe terminata allora con il giudizio universale grazie alla conversione di una persona e con la sua famiglia la storia è continuata e noi e noi dobbiamo a queste persone che si sono convertite anche la nostra possibilità di avere la salvezza perché senza quello la possibilità offerta di Dio si chiudeva e quindi ora noi non siamo salvati da Noè ma Noè ha contribuito a darci uno spazio per esistere anche noi ed essere salvati ed essere messi di fronte alla scelta di Dio di essere salvati essere salvati da Dio ma anche in questo caso il contributo della persona è importante nell'aprire agli altri l'offerta di salvezza data da Dio e quindi ancora tanti altri personaggi che nella Bibbia vengono menzionati Abramo Abramo nel suo processo di santificazione è arrivato al punto di capire a fondo il piano di salvezza di Dio quello del sacrificio del suo figlio che doveva pagare il prezzo di riscatto e qui è stato detto l'ascolto del sabato Abramo ha poi visto in visione Cristo il sacrificio di Cristo e quindi ha capito a fondo questo grande sacrificio di Cristo e dopo Abramo e Giacobbe Giacobbe che ha lottato fino all'estremo ma contro chi ha lottato lui sapeva di aver peccato contro Dio contro il fratello ha avuto il coraggio e l'onestà di andare verso il fratello per chiedergli perdono ma sapeva che il fratello l'avrebbe ucciso gli sarebbe andato incontro per ucciderlo perché il fratello era partito per ucciderlo e allora lotta con Dio per il suo peccato riconosce il suo peccato e qui questa via della santificazione noi la vediamo in atto e questo non si vede in nessun altro libro se uno legge questi episodi e capisce con lo spirito rimane commosso e sterefatto da questa grandezza di Dio e dell'uomo che si converte per arrivare alla storia di Giuseppe anche lì Giuseppe che piange perché piange Giuseppe Giuseppe piange perché voleva offrire il perdono ai loro ai suoi fratelli e i fratelli non ci credono non credono e lui piange per questo fatto perché non credono che lui veramente li perdonava fino a quando poi lo hanno capito che era un vero perdono e questa famiglia viene riunita perché i fratelli non credevano che Giuseppe li avrebbe perdonati non credeva quando gli aveva detto chiama il tuo padre fallo venire qua loro non credevano e allora lì piange Giuseppe perché capisce che non hanno capito cos'è il perdono per arrivare a Davide Davide è stato eletto dal da Dio al posto di Saul Saul si è dimostrato un violento si è dimostrato un orgoglioso uno che aveva messo da parte Dio e si era preso tutto il regno per sé era stato nominato da Dio come re del popolo di Israele e lui si approfitta di questo che era un incarico un'amministrazione per farsi grande lui per essere lui il re unico e addirittura con questa sua arroganza ha iniziato a fare del male a tutti alla sua famiglia al suo popolo a tutti e quindi ha meritato la destituzione dal suo incarico e Dio nomina un pastorello semplice un pastorello semplice Davide il quale Davide lui nella sua semplicità quando va sul campo di battaglia dove Golia si presenta contro il popolo di Israele lui spontaneamente per fede in Dio affronta Golia e uccide Golia ma non dice di averlo ucciso per la sua abilità per la sua destrezza che ha colpito in pieno Golia sa benissimo che la la lode va data sempre a Dio sa benissimo che Dio che ha operato in lui e che Dio che porta la sua salvezza e sa bene che l'obiettivo dell'uomo non è quello di auto-esaltarsi l'obiettivo dell'uomo è quello di diventare come Dio nel carattere di acquisire la santità di Dio nel carattere ora Davide come tutti gli altri uomini come anche noi doveva passare tutte le varie fasi Dio mette davanti all'uomo via via man mano che cresce i suoi punti deboli che in quel momento sono maturati per essere affrontati e superati e quindi a un certo momento Davide sta in una situazione di completa persecuzione ma persecuzione proprio non persecuzione così ti tolgo il lavoro persecuzione di di morte di vita o di morte e leggiamo qui in in prima Samuele 19 9 allora uno spirito cattivo permesso dal Signore si impossessò di Saul egli sedeva in casa sua tenendo in mano una lancia mentre Davide suonava l'arpa Davide era stato chiamato da Davide cioè Davide era stato chiamato da Saul perché riusciva Davide con la sua arpa con la sua musica a migliorare lo stato di malattia di Saul Saul era presa da attacchi di panico attacchi di sofferenza proprio psicologici psichiatrici si può dire e avevano provato in diverse maniere ma la maniera più efficace per calmarlo per farlo stare meglio era quello di far suonare la musica a Davide per cui lo chiamavano Davide suonava e Saul si calmava e stava meglio e anche Saul si rendeva conto di questo beneficio e chiamava spesso Davide però dietro questa azione Saul invece che ringraziare Davide aveva questo sentimento di persecuzione di odio tant'è che in questa occasione che cosa fa mentre Davide sta suonando l'arpa e quindi lo sta curando praticamente con la musica qui usa la musica psicoterapia che stanno scoprendo ora e che non l'hanno ancora capita bene allora Saul cercò di inchiodare Davide al muro con la lancia ma Davide schivò il colpo e la lancia andò a conficcarsi nel muro Davide fuggì e si mise in salvo in quella stessa notte ecco quindi l'assenza di gratitudine e questo odio di Saul contro Davide e contro Dio e Davide è stato perseguitato a lungo a un certo momento Davide ha avuto l'occasione di poter uccidere Saul perché Saul era entrato nella grotta dove lui era nascosto e quindi in quell'occasione in cui era del tutto solo Davide insieme al gruppo che si era nascosto avevano nelle loro mani la possibilità di uccidere allora Davide si avvicina a Saul gli taglia il lembo del mantello e lo lascia in vita lo lascia in vita poi quando Saul esce dalla grotta lui si presenta rischiava la vita sempre perché lui aveva l'esercito con sé per dirgli per dirgli ma perché mi stai perseguitando e anche qui leggiamo dei passi in prima Samuele 24 16 Davide si rivolge ecco qui il processo di santificazione di una persona Davide Davide si rivolge a Saul e gli dice prima Samuele 24 versetto 16 e seguenti sia dunque arbitro il Signore giudichi fra me e te e gli veda e difenda la mia causa e mi renda giustizia liberandomi dalle tue mani quando Davide ebbe finito di dire queste parole a Saul Saul disse è questa la tua voce figlio mio Davide e Saul alzò la voce e pianse poi disse a Davide tu sei più giusto di me poiché tu mi hai reso bene per male mentre io ti ho reso male per bene tu hai mostrato oggi la bontà con la quale ti comporti verso di me perché il Signore mi ha dato nelle tue mani e tu non mi hai ucciso allora vedete qui la grandezza dell'uomo convertito la grandezza di Dio e questa grandezza dell'uomo e allora Davide in questa occasione mostra che cosa mostra mostra di non voler essere lui giustizialista colui che fa una condanna ed esegue la giustizia esegue la condanna in questa occasione Davide capisce bene che non doveva essere lui giustizialista non doveva lui commettere questo errore di mettersi al posto di Dio di mettersi al posto Dio sapeva che Dio aveva in mano la situazione sapeva che Dio avrebbe potuto fare giustizia in ogni momento nei confronti di Saul quindi non doveva essere lui a stabilire la fine di di Saul perché l'uomo il giustizialismo ce l'ha dentro di sé e l'uomo è portato non soltanto a valutare che fin qui va bene valutare ma anche a condannare e condannare dicevi a capire questo particolare qua condannare non è dato all'uomo di fare l'uomo non è stato incaricato da Dio di eseguire delle condanne anche se la cosa è giusta è una cosa difficile da capire questo però bisogna capirla quindi ogni volta che noi siamo oggetti di un di un male quindi di un torto abbiamo tutto il diritto di dirlo ma perché mi fai questo torto ma non abbiamo il diritto di vendicarci di eseguire una condanna di dire ebbene per questo ora non parlo più con te questa è condanna non si può fare questa è condanna per questo io ora ti ti do una punizione che non te la scordi più questo è condanna diversa è la disciplina disciplina non è la vendetta perché Davide in un'altra occasione vi ricordate di Nabal che aveva rifiutato di aiutare Davide che era in bisogno con tutto il suo gruppo che Davide e i suoi avevano protetto i greggi gli uomini di Nabal dai briganti eccetera quando lui si è presentato per avere un aiuto Nabal l'ha proprio maltrattato anzi era disposto a farlo fuori e ebbe una reazione Davide eppure questo è un episodio che vi ho raccontato dopo quello precedente ebbe una reazione contro Nabal di rabbia tale che si organizzò subito per andare a uccidere questa persona malvagia e qui interviene Abigail che permette a Davide di capire che stava commettendo un errore nel voler fare lui giustizia anche se aveva ragione era un errore Davide lo capisce e vediamo come reagisce capisce che stava commettendo un errore accetta il consiglio di Nabal e ringrazia Dio perché gli ha mandato Nabal dopo ne ha mandato Abigail dopo un poco Nabal muore muore proprio per questa notizia di Davide e quindi leggiamo in prima Samuele 25 39 quanto segue quando Davide seppe che Nabal era morte disse sia benedetto il Signore che mi ha reso giustizia dell'oltraggio fattomi da Nabal e ha preservato il suo servo dal fare del male la malvagità di Nabal il Signore l'ha fatta ricadere sul capo di lui poi Davide mandò a Abigail la proposta di diventare sua moglie ecco qui che ora Davide ha capito pienamente che il giustizialismo è un grande errore lui non è caduto nella sua trappola nei confronti di Saul ci stava cadendo nei confronti di Nabal non ci cade grazie all'intervento di Abigail riconosce questo errore del suo carattere e quindi ancora una volta il suo grado di santità di santificazione procede e qui ora leggiamo in conclusione dei passi in Romani e poi in Mattio Romani 12 da 17 in poi non rendete a nessuno male per male impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini se è possibile per quanto dipende da voi vivete in pace con tutti gli uomini non fate le vostre vendette miei cari ma cedete il posto all'ira di Dio poiché sta scritto a me la vendetta io darò retribuzione dice il Signore anzi se il tuo nemico ha fame dagli da mangiare se ha sete dagli da bere poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo non lasciarti vincere dal male ma vinci il male con il bene ecco come riassume bene l'Apostolo Paolo tutto quello che abbiamo detto e ora ascoltiamo le parole di Gesù sul monte delle beatitudini ma beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia perché saranno saziati cioè è Cristo è Dio che fa giustizia beati quelli che si adoperano per la pace perché saranno chiamati figli di Dio beati i perseguitati per motivo di giustizia perché di loro è il regno dei cieli Davide l'aveva capito molto bene Matteo 5 12 rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi che Dio ci aiuti a capire e seguire questo insegnamento e ringraziamo Dio per tutto questo Amen grazie a tutti Grazie a tutti.